E con il ritiro della notte scorsa si conclude una guerra durata 20 anni, iniziata con l'attacco alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001. Li ripercorriamo questi 20 anni con Andrea Romoli. 20 anni fa era cominciato tutto con un sogno, liberare Kabul dalla dittatura medievale dei talebani e regalare ai bambini e alle bambine dell'Afghanistan il diritto ad un futuro migliore. Fu la coalizione dei volenterosi il 7 ottobre 2001 ad invadere il paese dopo il rifiuto del governo dei talebani di consegnare Bin Laden, il responsabile dell'attacco alle Torri Gemelle. Era l'operazione Enduring Freedom, rapida e travolgente ma non risolutiva. Nel 2003 la Nato prende il comando dell'operazione ISAF, pensata per la ricostruzione del paese. Nei sei anni successivi gli occidentali estendono il loro controllo su gran parte dell'Afghanistan ma continuano gli attentati dei talebani. Nel 2009 il presidente Obama ordina il surge 30.000 uomini al comando del generale Petreus per farla definitivamente finita con quella sporca guerra e liberare per sempre l'Afghanistan. I talebani sono all'angolo ma agli americani manca la capacità di dare il colpo di grazia e dopo la massima espansione comincia lenta la ritirata. Le bande talebane arrivate ad un passo dall'essere annientate si riprendono provincia dopo provincia. Il resto è storia di oggi. La storia di una sconfitta senza appello per chi quella guerra l'ha combattuta ma soprattutto per i bambini e le bambine afghane a cui avevamo promesso un futuro migliore.